cresce il caballero 125 500 e ora anche 700 si è arrivata la cilindrata grossa per soddisfare chi ha voglia di scrambler e di prestazioni anche sulle lunghe percorrenze nuovo motore che in realtà è una vecchia conoscenza se venite qua a guardare venite 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 cp2 è lo stesso bicilindrico parallelo fronte marcia della yamaha 700 quindi garanzia di divertimento 75 cavalli 70 newton metro di coppia prestazioni qui però la differenza che c'è il ride by wire ci sono tre mappe motore una stradale una per l'off road e una completamente customizzabile ma soprattutto sono controllo di trazione e abs cornering grazie alla piattaforma inerziale l'elettronica è sviluppata direttamente da minarelli a livello estetico il family feeling con gli altri modelli caballero è evidente anche se qui c'è una struttura un po più muscolosa un po più importante meno slanciata ma garantiscono da farti che l'abilità in fuoristrada non è stata affatto compromessa la forcella non è regolabile il mono ammortizzatore è regolabile nel precarico a livello di qualità percepita è veramente una moto che mi convince c'è un display tft da 3,5 pollici realizzato con grafiche studiate direttamente da fantic arriverà in primavera 2023 il prezzo non c'è ancora stato comunicato ma ve lo faremo sapere al più presto